Il bello dell'iPhone è che se incontri un amico e vuoi passargli una foto con un dito, c'è un'app. Se vuoi passargli i tuoi dati con un colpo, c'è un'app. O se vuoi solo passare del tempo libero con lui, beh, anche per questo c'è un'app. Perché c'è un'app praticamente per tutto. Solo su iPhone. Grazie a tutti.